Una station wagon per amica. No, non è il titolo di una nuova bizzarra serie TV, ma il concetto alla base di Pacific Drive, avventura su quattro ruote sviluppata da Ironwood Studio in arrivo nei primi mesi del 2024 su PC e PS5. Si tratta di un titolo che chiede fondamentalmente di sopravvivere in un ambiente ostile, servendosi solo della propria automobile, e che noi abbiamo provato alla Gamescom di Colonia. Accendete dunque i motori e seguiteci per scoprire se abbiamo riportato a casa la pellaccia. Quella che abbiamo avuto modo di provare in Germania è proprio la demo che gli sviluppatori stavano preparando per lo Steam Next Fest, ma che poi hanno deciso all'ultimo momento di non pubblicare. Stando alle parole degli sviluppatori, infatti, troppi bug e il poco tempo a disposizione hanno rappresentato ostacoli insormontabili, e dobbiamo ammettere che al momento del nostro test in terra tedesca questa dichiarazione non ci ha sorpreso affatto. L'ultima fatica di Ironwood Studio infatti sembra ancora un po' indietro sul versante tecnico, e presenta tanti piccoli e grandi bug disseminati in ogni dove. Tuttavia il titolo dimostra anche tantissima voglia di offrire agli utenti qualcosa di davvero inusuale. Non sono infatti molte le produzioni che consentono al giocatore di stringere un legame particolare con un mezzo meccanico mettendolo sempre al centro della scena. In Pacific Drive il nostro compito è quello di scappare da un incubo causato da un qualche fenomeno meteorologico, e per farlo avremo a disposizione una station wagon con tanto di tubi, sbuffi e strani computer costruiti durante degli anni 80 mai davvero esistiti e decisamente più avanzati di quel che erano davvero. Il viaggio è poi segmentato in piccoli open world che andranno completamente attraversati, per essere poi dichiarati esplorati e procedere oltre. In più alcuni checkpoint saranno divisi da più segmenti, obbligandoci così a sopravvivere per il doppio del tragitto prima di poter tornare finalmente alla base, dove sarà possibile riparare le parti del nostro bolide eventualmente danneggiate. I tratti di strada dello scenario si presentano in stato di completo abbandono, e inoltre qualcuno sembra aver disseminato manichini ovunque. Tutti i dettagli di lore questi che saranno in larga parte raccontati da trasmissioni radio e documenti sparsi in giro. Tuttavia è proprio dal punto di vista narrativo che i particolari scarseggiano. Ovviamente il progetto è ancora in corso d'opera e c'è ancora molto da decidere e da programmare. Sembra intanto essere confermata la presenza di una sorta di nemico ricorrente, ma c'è davvero poco altro per il momento. Allo stato attuale, infatti, Pacific Drive sembra più uno di quegli indie esplosi mediaticamente troppo presto e che poi faticano a star dietro alle aspettative del pubblico. Certo, gli ingredienti per un gioco di successo ci sono tutti, ma dargli forma e sostanza è completamente un altro discorso. Ad ogni modo, durante la nostra prova abbiamo incontrato due grossi ostacoli. Il buio che non permette di guidare in sicurezza e delle strane torri in metallo che lanciano costantemente delle scosse elettriche in grado anche di sollevare e spostare la vettura. Il tragetto che abbiamo percorso nel poco tempo a disposizione ci ha comunque consentito di attraversare una zona rurale punteggiata da altissimi alberi, per poi indirizzarci all'interno di una strana fabbrica dalla quale dover trovare l'uscita. Sbagliando strada siamo stati colpiti in pieno da una delle torri fulminanti e la nostra auto, dopo aver roteato in aria due volte, è atterrata sulle ruote ma con la batteria completamente scarica. Risultato? È stato necessario scendere dal mezzo al buio e servirsi dei morsetti per farlo ripartire. Sappiamo cosa vi state domandando e la risposta è sì. In Pacific Drive sarà possibile scendere dal mezzo in qualsiasi momento. Tuttavia l'avventura è pensata anche per fare in modo che il giocatore non si allontani mai troppo dalla vettura. Una volta scesi infatti la sensazione di essere dannatamente fragili e opprimente, e nella versione finale dovrebbero fare la loro comparsa anche diversi pericoli in grado di scoraggiare l'esplorazione a piedi. Nel garage dove torneremo per riparare la station wagon o semplicemente quando l'esplorazione andrà storta, sarà possibile usare la fiamma ossidrica per riparare la carrozzeria, una pompa di benzina e chissà quali altri elementi che però non abbiamo ancora avuto il tempo di esaminare. Il concept del gioco funziona e tecnicamente è anche un titolo senza dubbio affascinante. Al momento però a Pacific Drive manca l'elemento che leghi tra loro tutte le componenti come un pericolo più tangibile e territori più interessanti di quelli su cui abbiamo guidato alla Gamescom. Certo, manca ancora qualche mese al suo approdo sul mercato, e la speranza è quindi che gli sviluppatori si prendano tutto il tempo necessario per perfezionarlo a dovere. Voi cosa ne pensate del potenziale di Pacific Drive? Riuscirà il titolo di Ironwood Studio a rispettare le aspettative del pubblico? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare anche un bel mi piace. Qui a fianco trovate ora alcuni suggerimenti interessanti. Alla prossima!